Stiamo facendo una serena verifica di giunta che terminerà subito dopo il ferragosto, ovviamente senza il PD che ha dichiarato di essere all'opposizione, resta l'opposizione e finché questa cosa non cambia per me il PD è l'opposizione. Resta comunque questo rapporto conflittuale tra il sindaco di Francavilla e il Partito Democratico, ma perché qualcuno si chiede cosa c'è dietro se c'è qualcosa? Io sono il primo a non capirlo e quindi veramente a chi se lo chiede fa bene a chiederselo perché io sono il primo a non capirlo, io ho le mie idee, qua si tratta di, l'ho detto tante volte, di personalismi, di persone che vogliono usare la politica per fare la propria carriera o per avere la propria importanza. Io non ho mai fatto questo, io sono un amministratore intanto e non un politico e comunque la politica deve servire ad aiutare i cittadini. In quest'ottica ragiono io, ho sempre ragionato, evidentemente qualcuno ha altri ragionamenti. Grazie. Grazie.